Buongiorno, sono Laura Gervasio, Product Manager di Cambod Electronics Italia ed oggi vorrei parlarvi del sintolettore CD top di gamma della linea CarAudio 2010 KDC BT60U Si tratta di un modello flip down con frontalino, quindi estraibile e a scorrimento compatibile con tutti i nuovi formati di audio di musica compressa quindi MP3, WMA, AAC, è dotato di Bluetooth incorporato di ultima generazione di una porta USB posteriore, di un ingresso AUX per una facile connessione a qualunque dispositivo di memoria portatile A dispetto delle molteplici funzioni, il vero punto di forza di questo modello è però proprio la facilità d'uso Compatibile con i più svariati iPod e iPhone disponibili sul mercato il Kenwood KDC BT60U è infatti in grado di gestire l'enorme quantità di file musicali e video contenuti in un iPod eventualmente connesso senza che per questo l'utente debba distogliere la dovuta attenzione dalla guida Del resto, basta guardare il frontalino di questo prodotto, il suo pannello di controllo per capire quanto intuitivo e semplice sia il suo funzionamento La manopola di controllo, funzionando a rotazione e pressione, è del tutto simile a quella di un iPod Pertanto il suo otimizzo risulta immediatamente familiare a coloro che ne possiedono già uno Inoltre, questa barra di ricerca, ad alta velocità, con i due tasti UP e DOWN permette agli utenti di ricercare i file musicali e video semplicemente scorrendo l'elenco verso l'alto o verso il basso Utilizzando il tasto SEARCH MODE, si entra invece nella modalità ricerca avendo così a disposizione altre possibilità La ricerca diretta consente di effettuare una ricerca semplicemente inserendo le prime tre lettere di playlist, artisti, album, brani, podcast, generi o compositori e basta poi ruotare la manopola verso sinistra o verso destra per ottenere l'elenco dei brani È inoltre possibile effettuare una ricerca alfabetica, utilizzare la funzione salta ricerca e ricerca collegata Inoltre è disponibile la modalità controllo iPod manuale per effettuare il controllo dall'iPod stesso piuttosto che dall'autoradio Ma veniamo al display Più ampio dello standard comune, questo display si estende per tutta l'altezza del pannello frontale Oltre a ciò, è poi possibile poter scegliere tra due diverse modalità di visualizzazione a 5 o a 3 righe di testo 5 righe per schermo aiutano a rendere la ricerca musicale più semplice e rapida mentre 3 righe di testo e quindi caratteri più grandi facilitano la lettura del display Sempre per una maggiore facilità di utilizzo il sintolettore CD KDC BT60AU supporta inoltre più lingue non più solo l'inglese ma anche italiano, francese, tedesco, spagnolo e persino russo Assolutamente intuitivo è anche l'utilizzo dell'interfaccia Bluetooth integrata Oltre a un utilizzo in viva voce del proprio cellulare permette di visualizzare sul display nome e testo di eventuali sms in arrivo Una funzionalità integrata nell'unità Bluetooth permette di riprodurre tramite l'autoradio i file musicali memorizzati su dispositivi compatibili con funzione a 2dp Senza dover distogliere le mani e l'attenzione dal volante è possibile portare un mondo wireless di intrattenimento all'interno della propria macchina A questo punto non mi resta che augurarvi buon viaggio